Ciao a tutti qui da Campus Party, il primo evento di Campus Party in Italia, siamo con la community di Contamination Lab di Trento. Chiediamo subito a Eugenio di cosa si tratta, che cosa fate, qual è la vostra mission? Ok, il C-Lab è uno spazio dell'Università di Trento, è uno spazio dove vengono un sacco di eventi a carattere imprenditoriale, tecnologico e legati all'innovazione. È uno spazio fantastico dove noi tutti qua ci troviamo e possiamo sfogare la nostra creatività e sviluppare le nostre idee e progetti. Ad esempio c'è un corso proprio che si chiama Startup Lab dove gli studenti portano avanti idee di carattere imprenditoriale e magari diventare una startup. Come mai siete venuti qui a Campus Party? Noi siamo venuti a Campus Party perché all'interno del C-Lab con l'Università di Trento stiamo partecipando a una competizione internazionale, ma prima nazionale, a due livelli, nazionale e internazionale chiamata Inactus. Domani presenteremo due idee a carattere imprenditoriale appunto che avranno un impatto sociale e speriamo di migliorare la vita delle persone. Ci potete dare proprio uno spoiler di questa idea, il tema, l'ambito di applicazione? Ok, brevemente. Facciamo uno street food con cibi etnici e facciamo un laboratorio di riuso creativo dei materiali. Non posso dire altro. Io sono davvero sul street food cibi etnici, sono rimasto un po' complimenti. Come è strutturata la vostra community? Tu che ruolo hai e magari farei un veloce giro, una carrellata anche con gli altri componenti? Sì, io all'interno del C-Lab partecipo come tutti gli altri studenti che usano strumenti. Che usano strumenti, sì, ci contaminiamo e all'interno di Inactus sono il team leader. Ti chiami? Mirko. Quanti anni hai? 26. Tu? Io sono Martina, ho 24 anni e anche io partecipo a diversi eventi del C-Lab e per quanto riguarda Inactus sarò una delle speaker della presentazione di domani. Bocca al lupo. Grazie. Tu sei? Gloria e sono la project manager invece dello spazio del Contamination Lab. Io li ho un po' aiutati nei vari progetti di Inactus e sto lì dentro e gestisco le varie attività che avvengono. Ecco, la cosa, io sono Ilario, ho 27 anni, sono qui e racconto Campus Party sui social in diretta. Quindi la cosa bella di Campus Party è che tanti giovani come noi sono già project leader, project manager su progetti importanti che per prossimità poi portano anche altri studenti subito ad avere spazio nel mondo del lavoro e di progetti che possono anche essere concreti ed avere una vita propria. Quindi complimenti a voi e in bocca al lupo per domani. Grazie. Grazie. Grazie.